eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro gigio iube se nel primo video di giornata vi ho parlato del volo delle disdette di quanto siano aumentate in questo periodo le disdette di quanto si siano abbassate i dati degli ascolti di serie a dove la gente ragazzi disillusa si è scorciata di farsi prendere per i fondelli e si è sempre più allontanata da questo mondo del calcio vi ho parlato dei personaggi come marotta come gravina come tutti coloro che fanno parte della governance del calcio che sono senza alcun dubbio gli artefici principali di questa situazione e vergognosi attori di questa situazione ragazzi non abbiamo parlato in questo video di una componente importantissima per oleare questo sistema e per farlo funzionare o meglio farlo crashare perché questo sistema sta crashando senza che loro se ne rendano conto e senza che riescano a capire che il loro modus operandi sta portando alla distruzione totale della passione delle persone che è senza alcun dubbio il vero motore del calcio parliamo ragazzi dei media dei media che ancora non vogliono arrendersi all'evidenza ancora non vogliono accettare che questo loro esaltare la parte marcia del sistema porterà inevitabilmente al fallimento totale del calcio e quindi ragazzi al disinnamoramento delle persone per questo ragazzi che vedi come questi vanno condivisi assolutamente perché devono fare da controaltare alla propaganda mainstream e devono cercare di aprire gli occhi a quante più persone possibili quindi vi chiedo di likeare questo contenuto di iscrivervi al canale per far crescere la nostra voce di protesta farla arrivare a più persone possibili e soprattutto condividere questo video per poter ragazzi farlo vedere a tutti coloro che non sono come noi abituati a sentir parlare di queste cose perché c'è tante persone ragazzi sono tante persone che ancora queste cose qua le vedono come qualcosa di distante quindi vedono ancora il calcio per quello che viene raccontato dai media mainstream quindi likeate iscrivetevi e campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale quando si parla di propaganda quando si parla di narrazione pro inter non si può non si può non partire dal cheerleader per eccellenza da chi sempre e comunque è schierato nella lotta all'inter e guardate ragazzi l'articolo che è uscito ieri sulla gazzetta dello sporco è qualcosa di fenomenale qualcosa di fenomenale potete vederlo da voi i giovani sono con gli ultras gli ultras un sondaggio ha praticamente un sondaggio fatto poi tra l'altro da loro vorrei capire con quale attendibilità ha portato a dichiarare che il 60% dei giovani è favorevole agli ultra perché li fanno sentire parte di qualcosa di importante cioè ragazzi si è arrivati al punto di esaltare associazioni che per lo più sono permeate dalla mafia pur di non far punire punire l'inter pur di non parlare dello schifo che c'è nel calcio italiano pur di non arrivare alla giusta punizione per chi ha aiutato è stato complice di atti criminali tra l'altro dove c'è oltre all'associazione delinquere c'è lo stampo mafioso perché c'è l'andrangheta di mezzo ragazzi l'andrangheta una delle organizzazioni più pericolose che esiste in questo paese però la gazzetta dello sporco ci viene a dire che gli ultras sono dei catechisti e che dobbiamo mandare i nostri ragazzi se volete potete mandare i vostri bambini invece che al catechismo li mandate direttamente dagli ultra dell'inter dove vengono preparati alla comunione vengono preparati a tutti i sacramenti possibili e immaginabili e ragazzi e che cosa vi devo dire io che cosa vi devo dire li mandate da il zaghi che gli insegnerà a spacciare dei biglietti gli insegnerà come si si danno via i biglietti con il sovrapprezzo gli insegnerà il bagarinaggio insomma il bravissimo in zaghi oppure li mandate da zanetti che gli insegnerà a fare il palo e ad avvisare ad avvisare chi svolge attività criminali nel momento in cui ci può essere qualcuno che sta prendendo un'indagine poi vorremmo sempre sapere dalla procura di milano ecco questo è una nota a margine dalla procura di milano e precisamente dal dottor marcello viola come il signor zanetti fosse a conoscenza di questa indagine ecco perché questa sarebbe una cosa importante perché non sono un genio della matematica diciamo così però due più due a casa mi ha fatto sempre quattro se il signor viola pratica gli ambienti interisti se il signor viola va a cena tra l'altro con gente che dovrebbe indagare se il signor viola è spesso ospite come del resto il signor rocchi col tanto di braccialetto dell'inter ragazzi chi ha avvisato zanetti di questa indagine ai posteri l'ardua sentenza perché noi non possiamo dire ma non finisce qua ragazzi non finisce qua perché ieri non è solo la gazzetta dello sport che ha santificato e beatificato gli ultra che sono diventati come detto davvero dei beniamini dei personaggi da emula emulate gli ultra ma non basta ragazzi emulate anche il bigliettaro simone in saghi colui che spaccia biglietti a destra e manca passa all'attacco e non ha bisogno di difendersi almeno secondo capelli fluenti zazzaroni che pubblica in prima pagina in saghi attacca tutti i ragazzi zaghi attacca tutti non ha alcuna intenzione di difendersi del resto c'è chi lo difende già al posto suo lui dovrebbe essere in procura dovrebbe essere in procura a spiegare come mai spacciava biglietti a destra e manca ed invece va a roma a ritirare premi farlocchi premi di cui non voglio neanche parlare perché vi dico soltanto vi dico soltanto che questo che questo premio che ha ricevuto in zaghi ha visto miglior alleatore simone zaghi miglior dirigente beppe marotta poi manca soltanto miglior capo mafia ecco miglior capo mafia a via zanetti e siamo a posto così tornando però all'articolo del corriere dello sporco vediamo ragazzi che in zaghi oltre a non doversi difendere naturalmente io ho giocato sul non doversi difendere in procura ma lui intendeva non doversi difendere in campo perché quest'anno ha una rosa forte in grado di giocarsela con tutti e quest'anno l'inter avrà difficoltà difficoltà a doversi diciamo a doversi ripetere perché vincere difficile ma le solite frasi fatte le solite cazzate ma ripetersi ancora più difficile però ragazzi il bello viene quando a simone in zaghi viene chiesto degli arbitraggi e lì ragazzi e lì simone in zaghi proprio ci dà una dimostrazione di classe ed eleganza quando simone in zaghi ci dice bisogna tutti aiutare gli arbitri bisogna mettersi nei loro panni dargli una mano a fare la scelta giusta perché il loro è un lavoro difficile ma per fortuna sono aiutati dal var e ragazzi miei vedete che vedete quanto è saggio simone in zaghi come lui ragazzi lui non protesta mai mai abbiamo visto simone in zaghi protestare mai abbiamo visto simone in zaghi non lo so esagerare per qualunque cosa ve lo ricordate non ha mai pianto ragazzi anche quando era la lazio ma è stato sempre uno integerrimo ligio al sistema però ragazzi non se ne può più farsi prendere per i fondelli in questo modo non se ne può più davvero perché naturalmente naturalmente tu sei in questo momento l'amico degli arbitri chissà come mai forse perché il tuo migliore acquisto nella stagione scorsa ma anche in questa con un rinnovo da 500 milioni è stato rocchi e quindi e quindi tu non hai problema ma non hai il problema degli arbitri il problema degli arbitri ce l'hanno se mai gli altri dove la juventus si è vista negare due calci di rigore dove naturalmente con sei sao che è stato espulso ingiustamente è stato anche squalificato naturalmente in questo caso non è avvenuta la grazia di gravina come avvenne qualche anno fa come avvenne qualche anno fa con lucao è logico che simone in zaghi sia diciamo molto molto favorevole alla classe arbitrale chi non lo sarebbe al posto suo del resto non mi sorprenderebbe che un giorno dichiarasse di essere molto molto fiducioso della giustizia italiana e molto ligio alle leggi perché crede tanto nella giustizia del resto ragazzi soprattutto al nella procura di milano lui può stare tranquillo può continuare a ricevere premi quando in cambio dovrebbe avere un bel paio di braccialetti so se sono stato chiaro perché se non avete capito come dice il mio amico peter pan ve la spiego fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto mi raccomando massima condivisione di questo video in modo da non farci prendere per i fondelli da tutti questi pagliacci e fino alla fine contro tutto e tutti sempre comunque forza juventus